Guarda, allora, partiamo dal presupposto che fare il calciatore non esiste solamente la serie di serie, il calcio è anche la serie di serie, non ci possono arrivare a certi livelli, però in quella squadra lì c'erano i Barella, c'erano i Di Marco, c'erano i Pezzella, c'erano i Favilli, c'erano Orsolini che è stato il capocannoniere, quindi per o male la maggior parte sono usciti. Mi dispiace per Filippo Romagna che ha avuto tantissimi infortuni, però questo è un grande giocatore, un grande difensore, quindi ecco perché io vi ho detto che secondo me, nei settori giovani bisogna lavorarci, quello sì, e poi cercare di evitare di andare a prendere anche dei giovani stranieri, perché altrimenti puoi plussare di categoria nelle nazionali e fai fatica a trovare veramente giocatore.